Ciao a tutti collezionisti e collezioniste, benvenuti su Lele King TV, il canale dedicato a tutti voi, a tutti voi che amate le figurine calciatori panini e non soltanto ragazzi perché portiamo anche altre collezioni tra cui anche la Tops con la Champions League ma anche le card ragazzi stiamo ancora completando le Adrenali XL 2021-2022, quindi mi raccomando questo è un canale da non perdere, da tenere sotto occhio quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi più i prossimi video che usciranno di Lele King TV porca miseria e dai iscrivetevi al canale, detto questo ragazzi lasciate subito un like e scrivete sotto nei commenti la vostra figurina preferita fra quelle che vedrete in questo cello, mi manca, seguitemi anche su Instagram e su TikTok, basta cercare Lele King TV iniziamo subito collezionisti e collezioniste con il Bologna con Soriano che è la figurina numero 43 andiamo a vedere se ci manca su sto album bello bello, vediamo un po' se ci manca su sto album bello bello la numero 43 e ci manca la numero 43 che è Soriano, eccolo qua Roberto Soriano e andiamo all'attaccare e poi c'è sta Barrov che ce l'abbiamo anche questo mi sa ciò, o triplo, eccolo Barrov atta, pian pesca Barrov anche Nandez con il 74 del Cagliari, mi sa che è doppione eccolo qui, Nandez anche doppione, vai andiamo avanti andiamo con la numero 95, Zurkovischi, anche lui è doppione, che bello ragazzi, che bello poi abbiamo la 108 che è Di Francesco e anche lui ce l'abbiamo, Di Francesco, figlio di Eusebio Di Francesco ex giocatore della Roma del Piacenza e anche ex allenatore della Roma del Sassuolo del Cagliari, via dicendo poi abbiamo la 112 della Fiorentina e qua andiamo a mettere che è quarta meno male che è quarta, ci salva un po' la situazione quest'oggi dai e, dai e non siamo proprio partiti in quarta, però che fortuna che è quarta ci ha salvati poi abbiamo la 115 che ci manca, che è Biraghi la Fiorentina sta facendo un buon campionato quest'anno poi abbiamo la numero 132 che è José Caléon ex giocatore del Real Madrid e del Napoli nel nostro campionato e qui ci manca, andiamo ad attaccare sulla 132 Caléon poi andiamo al Genoa con la figurina numero 141 che è Bani e Bani ci manca poi abbiamo l'Ellas Verona col 173 che è Gunter vediamo un po' se abbiamo la 173, ci manca la 173 che buono buono come il pane ragazzi la 173 mancante dell'Ellas Verona che è Gunter andiamo avanti, poi abbiamo Kalinic col 185 e anche Kalinic ci manca Kalinic ex giocatore di Fiorentina, Milan e Roma per quanto riguarda il nostro campionato dall'anno scorso è all'Ellas Verona ex giocatore anche dell'Atletico di Madrid per lui una grande stagione la prima se non sbaglio a Firenze e poi la seconda già un po' più bassa ma voleva andare via l'acquisto dell'Atletico di Madrid ma poi da lì in poi non è che abbia più fatto vedere grandi cose forse l'anno scorso a Verona un pochettino meglio dell'ultima stagione la 191 è D'Ambrosio dell'Inter e questa ci manca poi abbiamo la 195 che è Darmian giocatore tornato in Italia dal Manchester United sponda a Parma e poi l'anno scorso a metà stagione proprio a gennaio Darmian si è trasferito all'Inter di Conte e è stato fondamentale secondo me nell'Inter dello scudetto Darmian poi abbiamo Arturo Vidal che va qui con il numero 200 poi abbiamo la 250 questa squadra qua la 250 Patrick ecco qua dei biancosbiaditi poi abbiamo anche Ciruzzo Immobile sempre dei biancosbiaditi e giriamo pagina finalmente poi abbiamo lo stemma del Milan eccolo qui che è doppione poi andiamo al Napoli dove abbiamo la maglia del Napoli che è la 310 e anche questo è doppione anche la maglia del Napoli andiamo allora alla Roma finalmente andiamo alla Roma ci rifacciamo gli occhi qui con questi bei colori giallorossi col 339 che è Shumurdov me si era inceppata la lingua eccolo qui poi andiamo alla Sernitana col 345 che è Fiorillo che ci manca dopo Fiorillo abbiamo Gaiolo col 346 anche questa ci manca bene 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 poi abbiamo la 348 allenatore Colantuono poi ancora Sernitana dove abbiamo la 351 Bogdan eccolo Bogdan giocatore croato poi abbiamo sempre la Sernitana 354 che questa volta è doppione ragazzi ma ancora non è finito perché abbiamo anche Di Tacchio col 363 andiamo a vedere se Di Tacchio ci mancano Di Tacchio ce l'abbiamo quindi poi all'ultimo abbiamo provato due doppioni andiamo alla Samp dove abbiamo la 376 che è la rosa che ci manca va lì in alto a destra eccolo poi abbiamo la 391 che è Torregrossa eccolo anche qui Torregrossa col 391 della Samp poi abbiamo la 405 del Sassuolo qui bisogna cominciare a fare piano che stiamo nelle pagine centrali quelle delicatissime di questo album ragazzi diciamo pianissimo attaccare qui le figure facciamo attenzione a queste maledette pagine centrali che si staccano questa ancora intatta non so se riusciremo a tenerla così fino a fine collezione poi abbiamo la 424 dello spezia che ce l'abbiamo poi abbiamo un Zola con il 444 sempre poi abbiamo la 447 che è lo stemma del Torino che l'abbiamo trovato un'altra volta quindi è doppia poi sempre nel Torino abbiamo la 448 che ci manca la 448 andiamo ad attaccarla bene 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 ragazzuoli ragazzuole abbiamo attaccato questa figurina poi abbiamo la 451 che è Zima altra figurina mancante per il Toro Zima che è un classe 2000 poi abbiamo la 465 che è Pobega che va qui sotto poi andiamo al Venezia dove abbiamo la 501 e ce l'abbiamo la 501 del Venezia poi abbiamo la 506 che è la formazione del Venezia e questa ci manca eccola qui poi abbiamo Vacca con 511 sempre del Venezia la 512 che ce l'abbiamo la 522 del Venezia che ci manca poi abbiamo la A2 e qui parliamo di 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 ma tu stanno mi sono persi forse stanno qua no parliamo delle mascotte delle squadre qui c'è il calciomercato qui c'è la serie dedicata alla nazionale eccoli A2 che è quello del Bologna di Avatar poi abbiamo A4 che ce l'abbiamo che è l'Avatar dell'Empoli andiamo alla 553 calcio femminile va qui dell'Inter poi abbiamo il 559 che è la Roma di calcio femminile l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia di calcio femminile invece lo Scudetto l'ha vinto la Juventus se non sbaglio dovrebbe essere così la Roma ha vinto la Coppa Italia la Juventus il campionato poi abbiamo la 562 che è lo stemma dell'Alessandria che ce l'abbiamo un altro stemma e ce l'abbiamo il 569 dell'Ascoli poi sempre dell'Ascoli abbiamo la 574 che ci manca poi abbiamo 575 ancora dell'Ascoli altra mancante 577 del Benevento dove c'è il portiere Paleari che lo seguo anche su Instagram mi seguo anche lui chissà se se vede i miei video non lo so intanto lo salutiamo ciao Alberto ecco qui anche i tre del Benevento sono attaccati poi abbiamo del Cittadella la 595 ecco poi andiamo al Como con la 602 eccoci qua attacchiamo anche queste figurine qui del Como poi andiamo al Cosenza con la 607 e stavo a mettere tutte queste serie B speriamo continua così speriamo da continuare in questo modo poi abbiamo la 611 sempre della serie B questa torta cremonese che è lo stemma poi della cremonese abbiamo la 615 che ce l'abbiamo sempre della cremonese abbiamo la 617 che invece ci manca poi abbiamo il Frosinone con la 627 che è una mancante che va qui poi abbiamo del Vicenza la 645 altra mancante altra mancante e dai e dai e su ecco qua e anche questo è ok poi abbiamo del Pisa lo stemma con il 667 e ci manca lo stemma del Pisa poi abbiamo della Spal da 692 che va qui altra figurina mancante e poi andiamo alla serie cito abbiamo gli stemmi col 705 705 A Prosesto il B che è la Pro Vircelli poi abbiamo il Renate e poi abbiamo l'ultimo che è il Serigno e poi abbiamo la 706 che è subito dopo Sud Tirol Trento Triestina e Virtus Severona attacchiamo prima la Virtus Severona che si è staccato per primo come scudetto e poi attacchiamo quello della Triestina eccolo qua eccolo qua a posto ragazzi abbiamo attaccato un buon numero di figurine io a questo punto vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti collezionisti e collezionisti ciao